Musica Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il nostro programma di intrattenimento. Noi di solito ci occupiamo di argomenti che riguardano la Sicilia, la sua economia, il suo stato sociale e per una volta però vogliamo incontrare un personaggio che ci racconta gli echi della guerra. Da febbraio di quest'anno l'intero mondo ha il fiato sospeso per quello che si sta combattendo in Ucraina. Da un certo punto di vista la Russia le chiama operazione speciale militare, per l'Occidente si tratta di un'invasione in piena regola. Ogni giorno dal fronte arrivano contributi da parte di giornalisti che cercano di raccontare in maniera equilibrata ciò che sta accadendo in quelle zone martoriate ormai da più di sei mesi. Anche una giornalista siciliana è andata lì sul fronte, non soltanto a raccontare quello che succede ma anche a testimoniare il volto buono dell'Italia nel dare solidarietà ai popoli che soffre senza prendere una posizione di parte, senza dire chi siano le buone e chi siano i cattivi. Marina Pupella è stata una settimana a Mikolaev, nell'oblast di Mikolaev, quindi al sud dell'Ucraina. Benvenuta Marina, sono contento che sei scelto noi per raccontare questa tua esperienza sul fronte di guerra. Tra l'altro tu non sei nuova a scenari abbastanza complicati, già hai fatto... quali sono? Dove sei stata? In Siria? Allora io sono stata al confine turco-siriano proprio l'indomani del colpo di Stato del 2016 e ho visto una situazione abbastanza preoccupante, soprattutto per la popolazione kurda. Tu racconti per giornali nazionali e internazionali questi conflitti. Sì, esatto. Però questa volta hai fatto una scelta diversa, cioè non hai fatto la reporter di guerra in Ucraina, tu sei andata con chi a portare solidarietà? Allora io sono partita con una rete, che è quella di Stop the War Now, che ingloba 175 associazioni che hanno voluto partecipare, dare il loro contributo fattivo, perché comunque hanno destinato anche dei fondi, da una raccolta fondi, da privati per portare l'acqua proprio a Mikolaev, che voglio ricordare è rimasta completamente a secco a seguito di un attacco venuto proprio fra marzo e aprile sulla città, che ha colpito l'acquedotto e quindi la gente praticamente non ha acqua. Quella poca che gli arriva nelle case e scorre a un colore proprio... Sì, questa è l'acqua che scorre. Dei rubinetti di Mikolaev. Dei rubinetti di Mikolaev. È una situazione che ci lascia senza parole. Eh, ti dicevo. Tra parentesi, Mikolaev, se non sbaglio, è a pochi centinaia di chilometri da Zaporizia, che si prova a vivere accanto al luogo più famoso del mondo dove sta per scoppiare un conflitto nucleare e c'è una centrale nucleare che rischia di esplodere da un momento all'altro. Allora, ovviamente le nostre giornate, parlo delle nostre perché io sono partita a seguito di altri 49 volontari che hanno importato 10 tonnellate di aiuti umanitari, c'era di tutto, viveri, medicine, persino, beh, bisogna dirlo, anche i pannoloni perché là la gente, se non si è 200 mila persone, Mikolaev era una città di 500 mila anime, sono scappati per lo più, cioè la metà è fuggita, e sono rimasti anziani, bambini, non ne vedi, e quindi insomma c'è questo problema. Tu mi chiedevi, insomma, com'è che la gente vive questa guerra? Allora, si è abituata, questa è una cosa che mi ha colpita quando abbiamo dormito con loro nei rifugi, nei rifugi antiaere intendo. Ma come funzionava la tua giornata? Ecco, raccontaci. Allora, durante il giorno si distribuivano pacchi, molto impegnativo perché devi pensare che siamo partiti con 11 pommini, tutti stracarichi di beni, cioè di beni e beni prima necessità, quindi la mattina scarichavamo questi pacchi, e devo ricordare che nel frattempo suonavano le sirene antiaere, quindi insomma, teoricamente avremmo dovuto prepararci. Il Mikolaev è controllato dall'esercito russo o dall'esercito ucraino? Allora, no, in questo momento ovviamente c'è quell'Ucraino, comunque sì, assolutamente. Peraltro, non è tanto distante da Kherson che invece sappiamo essere una delle prime città, dei primi grandi centri a essere caduta, diciamo, in mani russe. Un posto importante perché è anche l'ex capitale dell'Ucraina. Esattamente, quindi è uno dei quattro maggiori centri dell'Ucraina. E allora dicevo, dista appena a 50 chilometri da Kherson, a Mikolaev, quindi in questo momento... E proprio è fronte di guerra. Sì, esattamente. In questo momento proprio le forze ucraine stanno cercando di penetrare nella città, e quindi di liberarla. E' chiaro che... Ma è già stato respinto l'attacco? Sì. Non è andato molto bene l'attacco. No, ecco, le notizie che arrivano... No, ma sono le notizie diffuse di... Sono diverse, contraddittorie. Gli attacchi sono stati respinti per il semplice fatto che comunque la Russia aveva fortificato le zone... Dall'altra parte, come al solito, il rimpallo di responsabilità, che questa è una cosa che ovviamente... Ma non c'è il rimpallo di responsabilità, è guerra. È guerra. E tutte le guerre è così, perché fondamentalmente, questo l'ho notato, in Bari, diciamo... Però ritorniamo alla tua missione, Mikolaev, quindi vecchi e abbandonati a se stessi, abbandonati lì. Anche se c'è il comune, anche se l'amministrazione comunale... Ma ancora funziona l'amministrazione comunale? Sì, devo dire che ti posso dire che è rimasto un solo consigliere comunale, Maxime, a quale va tutto il mio rispetto, perché, insomma, è voluto rimanere in città, sono scappati tutti. Lui invece sta ancora facendo tanto... Ma è legittimo mettere a riparo le famiglie. Questo è normale, questo è logico. Non ci noto nulla di... Questa è una cosa ovvia. Primo salvarsi la pelle, poi reagire, no? È chiaro. C'è anche da dire che l'amministrazione comunale che, insomma, sta cercando di aiutare per quanto possibile proprio gli anziani e chi è rimasto in città. Ti dico solo che gli unici bimbi che sono riuscita a vedere sono stati proprio quelli davanti all'edificio comunale. e ho detto, ma guarda, i primi bambini, allora ho chiesto, mi sono informato, ma questi bimbi, guarda, c'era una signora, quindi la mamma, guarda che qui vengono signore che hanno fino a 18 figli e la cosa mi ha scioccata perché, credi, mi fanno la fame, fanno la fame, più nera. Ma facevano la fame anche prima della guerra, no? Beh, direi che il pire... Perché quella non è una zona molto ricca, Luca. No, 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 assolutamente, è una cosa che ho notato, rispetto alla parte occidentale che è quella che abbiamo attraversato per arrivare dalla... E voi come avete fatto il giro? Cioè, com'è il vostro viaggio per arrivare lì? Allora, il mio è stato in tutto i 7 mila chilometri, ho potuto fare il calcolo, perché da Palermo sono andata a Venezia, poi da Venezia a Vicenza e lì mi sono incontrata con altre persone, si esatto, con alcuni, appunto, con il pulmino Vicenza, col pulmino Vicenza siamo andati poi a Gorizia e lì c'era proprio il raduno con tutti gli altri e... Di Stop the War. Esattamente. E poi da... Appunto da Gorizia abbiamo passato, vabbè, la Slovenia, la Croazia fino all'Ungheria e dall'Ungheria, dal confine ucraino-ungherese di Berehove, da lì ci siamo poi spostati verso... Quindi comunque siete entrati in zone controllate dal governo di Kiev? Assolutamente sì, sì. E lì, diciamo, l'accoglienza parte dell'esercito di Kiev, com'è stata? Vi hanno visto come dei... Allora, ti posso dire questo... Cioè, questo battaglioneazzo voi l'ha incontrato, questi nazisti? Andiamo, andiamo... Andiamo per gradi, sì. Andiamo per gradi. Quindi abbiamo attraversato questo confine diretti a Ternopil, che è una città comunque dell'Ovest, quindi occidentale, dell'Ucraina occidentale e ti posso assicurare che nel nostro passaggio io non ho visto quello che magari si poteva vedere agli inizi del conflitto partito ricordiamolo a febbraio, ma che dura comunque da otto anni, cioè il 2014, ok? Perché questo bisogna dirlo, non dobbiamo dimenticare il Donbass, assolutamente no. Quindi io non ho visto militari, non vedevo segni della guerra e non ero l'unica, cioè tutti quasi ci chiedevamo... Una situazione seriale? Ci chiedevamo, sì, ci chiedevamo, ma dov'è sta guerra, no? Poi a un certo punto vedevamo soltanto dei fantasmi di checkpoint, cioè non c'erano militari, c'erano soltanto delle postazioni abbandonate di checkpoint, questa è una cosa che ha colpito tutti. Man mano che invece avanzavamo verso... Come te lo spieghi questo? Come te lo spieghi questi checkpoint abbandonati? Perché lì la guerra era già passata, era già... Sì, credo che sia proprio per questo, perché ormai, se così si può dire, il conflitto si è molto spostato al sud e verso est, sud-est è chiaro, per cui insomma quei territori ormai appaiono essere fuori, diciamo, la sfera delle bombe, insomma ormai insomma... Non sono di interesse strategico in questo modo? No, per fortuna, per fortuna no. Una città rase al suolo, perché la testimonianza che tu mandi da Nicolae è una città distrutta. Eh beh sì, Nicolae, allora, a Nicolae ci sono parecchi, ci sono centinaia di edifici sventrati, infrastrutture ridotte a pezzi, quindi come ti dicevo poc'anzi l'acquedotto è stato distrutto, anche la facoltà di pedagogia, insomma è stata bombardata, alcuni... Ma qualcuno sta a mettere, ecco qua vediamo le immagini appunto della città, ma qualcuno sta già mettendo mano alla ricostruzione o per adesso si tenta semplicemente di sopravvivere? Ecco, queste immagini mi hanno colpito, questa foto, questa è una bambina che dorme, ecco chi è? Questa è una ragazza che dorme, sì, quella è il rifugio, no? È il rifugio dove ci siamo poi riparati, anche se io per poche ore, perché la no, come ti dicevo la mattina scaricavamo pacchi, poi andavamo in giro a vedere un po' qual era la situazione e la notte me la riservavo a scrivere, quindi comunque ho fatto questa cosa che per me è stata molto importante, non mi era mai capitato di indossare la doppia veste di volontaria e anche di giornalista e ti posso assicurare che... Ma lì non era un po' rischioso, comunque se entri come volontario hai dovuto dichiarare di essere una giornalista, lo sapevano che... Allora io avevo chiaramente mandato in anticipo la richiesta di entrare in paese con le varie autorizzazioni, sì avevo comunque le autorizzazioni rilasciate dalle forze armate ucraine, questo è il primo passaggio per i giornalisti, però siccome noi portavamo aiuti umanitari, loro ti chiedevano soltanto i passaporti e poi via, cioè è vero che ci fermavano ad ogni checkpoint, questo vi ho detto, però siccome portavamo aiuti umanitari, eravamo comunque benvenuti. E la cosa più bella quando siamo entrati, cioè il nostro ingresso a Micolaio è superando quel ponte che è strategico... Quale ponte scusa? Il ponte che collega Micolaio dalla terraferma, che il giorno prima proprio del nostro arrivo in città era stato presso di mira, bombardato, per fortuna è rimasto in leso, è rimasto in piedi, quindi il bersaglio non è stato entrato, viceversa saremmo dovuti entrare da Zaporizia, cioè fare il giro molto più largo e arrivare da Zaporizia, questo per fortuna non è successo. E allora ti dicevo, quando siamo entrati in città ricordo che la gente ci fermava e a un certo punto ci sorrideva e mimava proprio il cuore, come dire grazie, ce lo diciamo pure nella nostra lingua, grazie, grazie per essere qui, che è poi la stessa cosa che ci ha detto anche Gunna Remenikova, se ricordo bene il cognome di questo, che è il capo di uno dei quattro distretti della Municipalità di Micolaio, che ci ha appunto accolti nell'edificio comunale e lei ci ha detto, io vi ringrazio tanto per la solidarietà che ci state portando, nonché ovviamente anche per tutto quello che state facendo per noi, compresi gli installatori. La rete di Stop War Now ha fatto questa raccolta fondi raccogliendo proprio 30.000 euro da destinare all'installatore, è stato realizzato e ora dà acqua a 3.000 persone al giorno. Perché l'approvvigionamento di Micolaio va attraverso il Mar Nero per l'acqua. Beh, c'era l'acquedotto, attenzione. La mia domanda, Donneo, non so io. No, 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 c'era l'acquedotto, ora da dove prenda l'acqua l'acquedotto io questo non te lo so dire. Beh, immagino osserva un distillatore. Il distillatore è stato fatto scavando per 50 metri in profondità e quindi l'acqua viene presa da lì, è dissalata ed è acqua assolutamente potabile, l'abbiamo bevuta tutti, la bevamo pure noi fondamentalmente. Quindi sono stati ripristinati alcuni servizi essenziali? No, 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 attenzione, il distillatore c'è, ma non è che ti porta l'acqua dentro gli edifici, no, assolutamente no. Ma è soltanto un posto dove andare a rifornirsi. Esattamente, la gente va lì e si va riempire. Vabbè, un po' come Palermo della crisi idrica del 2000, che c'erano i box dove andavi. Però quella è acqua comunque pulita. Però lì c'è la guerra. Quella è acqua pulita, la possono bere, utilizzare per cucinare, perché come tu hai visto esce color taffè, insomma, non è. Ma c'è un minimo di ripresa della vita o ancora c'è questa missione. Allora mancano in città, tutti gli uffici sono chiusi, le scuole idem, si fa didattica a distanza. Però proprio oggi sono rieperte le scuole del Donbass. Ma intanto lì a Micolae rimangono chiuse, almeno quando erano chiuse e fanno comunque didattica a distanza. Quindi uffici chiusi, industrie, le fabbriche rimangono ancora chiuse. E questa situazione, ci diceva la sindaca o comunque questa vice sindaca, li preoccupa molto, perché se non si ritorna alla normalità, cosa che loro auspicano, infatti chiedono alla popolazione di ritornare proprio per ristabilire una situazione di normalità. Però ti voglio dire, fino a poco prima che facessimo, fino a poco prima che venissimo l'allarme bomba che abbiamo scaricato quest'app che ci avvisa dei bombardamenti che avvengono nei dintorni di Micolae, fino a… Non affidare alla mia vita un'app. Eh no, attenzione, però intanto ti avvisa, ti avvisa perché in quel modo lì tu ti vai comunque a nascondere, ti vai a rifugiare. Va detto anche che proprio all'indomani dal mio arrivo in Italia, no, due giorni prima del mio arrivo in Italia, quindi mentre ero in viaggio, sono morti tre bambini. Cioè, di che parliamo? Noi siamo andati lì per andare intanto un messaggio di pace. Sì, è vero che abbiamo portato aiuti umanitari, ma soprattutto e questa è una cosa che preme, cioè che mi preme dire e sottolineare, siamo andati a dare un messaggio di pace, oltre che di solidarietà, ovviamente. E poi c'è una cosa che Gian Piero Cofano, che è il coordinatore di questa mega rete di 175 associazioni… Che si chiama Stop the War. Stop the War Now. Ma funziona soltanto per l'Ucraina o prende in considerazione altre crisi che ci sono nel mondo. Dunque, questo Gian Piero Cofano è il responsabile della logistica della comunità Papa Giovanni XXIII, che ovviamente… Che sede ha? Allora, la sede, non so dove, ha diversi… Quindi comunque è un braccio operativo del Vaticano o sono autonomi? Credo che siano autonomi, io non mi sono molto addentrata… Però di istituzione cattolica. Sì, chiaramente, ovvio. Non mi sono addentrata, insomma, nei meandri. No, però ti posso dire che ha varie sedi dislocate in tutta Italia, a Catania ce n'è pure una, fatto sta che proprio i primi giorni del conflitto sono riusciti a portare 64 orfani proprio qui in Sicilia, da Cracovia, provenienti dagli istituti, dagli orfanotrofi di Mariupol e Kamatorsk. Comunque stiamo parlando di bambini che erano già orfani prima della guerra, mi pare capire. Erano già orfani prima della guerra, chiaro. No, perché c'è sempre questa associazione di orfani, vuol dire che i genitori… No, i bimbi già… No, erano già orfani prima. Andavano messi in sicurezza subito. Però Mariupol, insomma, in quel periodo era proprio quella presa di mira, per cui li hanno evacuati e li hanno portati qui e messi al sicuro, insomma. E questi bambini sono ancora a Catania? Sì, 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 assolutamente. Quindi sarebbe il caso anche di andare a capire, no? Ebbè. Una giornalista curiosa ed efficace per te non ancora… Ebbè, prima mi sono voluta documentare meglio anche su questa mega rete, ho voluto capire bene che cosa facessero e dopo che li ho visti lavorare sul campo mi sono resa conto che veramente fanno il lavoro più bello del mondo che è quello di aiutare gli altri, chi veramente soffre, soffre per la guerra e per i danni che questa causa. Parliamo di danni non soltanto alle infrastrutture, ma parliamo anche di danni immateriali, cioè quelli che causa la guerra all'uomo. Cioè parli del ritorno psicologico alla guerra, è un mostro che non si cancella più. È un mostro che non si cancella più. Io ho un amico carissimo, Hassan, in Siria, che ha problemi seri allo stomaco. A proposito, facciamo un piccolo paragone. No, perché, diciamo, tu sei soprattutto esperta di Medio Oriente. Particolare in Siria. Sì, è chiaro. Di Kurdistan, di Siria. Qual è la differenza fra questi due scenari di guerra, fondamentale? Allora, considera che la Siria è in guerra da undici anni. Io, poc'anzi ti ho detto che al nostro passaggio, attraversando i Carpazzi, questi bellissimi onti, e poi le immense distese di grano, insomma i villaggi che stanno in queste distese, devo dire che... Quella è la Rusci di Kiev, lo sai. Sì, però Kiev è un po' più al centro. No, no, quella comunque è la zona che si chiama la Rusci di Kiev, che storicamente la Russia è nata lì. Sì, sì, è vero. Assolutamente sì. Ti dicevo che non ci sono le devastazioni, attenzione, che ci stanno in Siria. La Siria è devastata. Rasa il suolo. Cioè, in Siria è devastata. Non si può fare... Quindi comunque è stata sempre un'operazione chirurgica, quella dei combattimenti tra... Guarda! Non ti so chiando di prendere le posizioni, però mi pare di capire quello che dici tu, che sono due scenari di guerra completamente diversi. No, completamente diversi, anche se l'attore principale che è... Cioè la morte è morte in guerra, non si discute, un morto vale un morto. Ci sono 379 bambini morti comunque in Ucraina, questo va ricordato. Sappiamo quanti... Attenzione, 379 bambini uccisi, ce ne sono poi migliaia fra i soldati, sia dall'uno che dall'altro schieramento. Non c'è dubbio, Marina, nessuno è a favore della guerra. Ci mancherebbe. Assolutamente no. Soltanto per capire qual è stato, come dire, la forza impositrice dell'esercito russo, mi pare di capire che è stato violento, ma anche, come dire, ponderato rispetto a marginalizzare il danno verso la popolazione civile, questo si può dire o è stata un'azione... Allora, in guerra, purtroppo, le bombe intelligenti, le cosiddette bombe intelligenti, non esistono, non possono esistere bombe intelligenti. Però non abbiamo visto in Ucraina le scene di Racca, per esempio, raso al suolo completamente. No, Racca, Aleppo... No, no, no. Cioè la guerra si può fare anche in maniera più violenta? Questo indubbiamente, insomma, voglio dire che Isis, la Siria d'Oshet, mi viene in mente subito l'Isis, perché ovviamente è uno dei principali autori di distruzione, morte, proprio in Siria, ma anche altrove, voglio dire. Pensi di ritornare lì? Oppure ci sono altre cose? Questo sarebbe la nostra idea, di tornare probabilmente a dicembre, ma prima di lì, a ottobre, ho già idea di andare in Siria, perché appunto voglio proprio tornare, cioè ci devo andare, lo sento come un dovere. Parli anche con tanti amici da sentire, da rivedere. Sì, assolutamente, assolutamente. In realtà proprio voglio andargli a trovare. Sì, sei un po' stretta Palermo, non c'è verità. No, è la mia città. Certo, una cosa mi ha scioccata quando sono tornata dall'Ucraina, che appunto è in guerra. No, aspetta, questo lo voglio capire. Palermo ti ha scioccata quando sei tornata dall'Ucraina? Cosa hai trovato? Cioè, questa è una cosa che mi ha fatto animare così. nonostante la guerra, tutto quello che ho detto prima riguardo alle infrastrutture e comunque le devastazioni. Cioè, Palermo è già abbastanza devastato senza la guerra, questo mi stai dicendo. No, l'immondizia che mi sono trovata non l'ho vista neanche a Nicolai, beh. Cioè, no. Questa è una bella cartolina per... Cioè, non riesce... No, è per distruggere Palermo, non abbiamo bisogno neanche della guerra. No, siamo un passo avanti. No, veramente incredibile. Io spero che abbiate raccolto il messaggio che ci ha voluto dare Marina, sostanzialmente un messaggio di solidarietà, di pace. Non è un messaggio pro Putin, non è un messaggio pro Zelensky, ma è semplicemente il messaggio di una giornalista in prima linea che ha voluto dare... ci ha portato qui la sua testimonianza ai sette giorni in Ucraina. C'era l'ultima cosa che posso dirti? Certo. Allora, Maxim, che è questo consigliere comunale, ringraziandoci, ci ha detto voi italiani siete stati gli unici a portarci non solo la vostra solidarietà, ma ad aiutarci anche con... Con gesti concreti. Sì, con gesti concreti. Speriamo che questo conflitto termina più presto, non ci interessa chi siano i vincitori vinti, noi ovviamente siamo dalla parte del popolo ucraino. Non ce ne sono. In guerra... Ma siamo chiaramente dalla parte di chi soffre, dalla parte del popolo ucraino. In guerra non ci sono vincitori e vinti, si perde tutti. Si perde tutti e sicuramente quello che non vogliono perdere è la sapienza, è la lungimiranza, e la penna graffiante di Menina Pupella. In bocca all'uvo per tutte le tue prossime avventure, Marina. Ti ringrazio. Grazie a te. Una buona serata a tutti, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.